La necessità più importante per me è stata quella di trovare questo bracciale, bracciale orologio, qualche cosa che mi permettesse di controllare mio padre a distanza, in quanto negli ultimi mesi, un anno, un anno e mezzo, ha perso molto la memoria e la facoltà di orientarsi. Quindi la mia preoccupazione principale era quella di poterlo perdere di vista, non rintracciarlo più e quindi mi sono affannata a trovare oggetti del genere in primo momento in effetti su internet. Il maggior beneficio nell'avere utilizzato e utilizzare questo bracciale è il fatto di poter controllare mio padre sempre. Ha le sensazioni di stargli vicino, lui ancora oggi esce, passeggia, si va a comprare il giornale ed io ho l'impressione di poterlo controllare, di sapere sempre dove sta. La qualità della vita di mio padre e quindi di conseguenza quella mia sono sicuramente migliorate e questo perché è molto semplice utilizzare questa applicazione sul telefonino, un banale smartphone, hai la possibilità di vedere subito dove sta, volendo puoi eseguire una telefonata e soprattutto ricevi dei messaggi di allarme se cade e questo è successo e quindi sei in grado di poter comunicare subito con lui facendo una telefonata in viva voce. È stato del tutto occasionale e però fortunato la possibilità di ottenere e comprare questo bracciale rivolgendomi in un negozio di Wind3 di telefonia qui presente a Frascati e spiegando ai negozianti che avevo bisogno appunto di un oggetto del genere. Loro avevano in effetti questo braccialetto e me l'hanno mostrato e mi hanno fatto vedere come era semplice installare l'applicazione e poter avere in effetti la conferma di controllare mio padre quando volevo, quando volevo, tutti i giorni.